Abbiamo costruito un guscio per difenderci da tutto e da tutti. Torniamo a sognare. Per riscoprire quello che siamo. Per tornare liberi di essere noi stessi. Liberi di muoverci pensando al nostro ambiente. Liberi di cercare il benessere nel nostro spazio. Nuova Y Hybrid Eco Chic. L'eleganza che ti libera.